E' diventato un videogioco virale nel nostro pianeta. Sto parlando di lui, di Pokémon Go, un'applicazione, un videogioco per iPhone e smartphone che si concentra nel catturare tutti e 150 mili Pokémon da parte di coloro che l'hanno installato questo videogioco, il loro smartphone e iPhone, in giro per la città, a livello reale. Una volta che viene trovato un Pokémon, viene lanciata la sfera a livello virtuale e poi viene catturato e viene messo all'interno della sfera di coloro rosso-bianco. E così è arrivato anche chi è riuscito a prenderli tutti e 150 mili. Tenta in questione, su Reddit si fa chiamare Football Odor e ha raccontato un monumento che è riuscito a catturare per tutti i 142 Pokémon disponibili negli stati unilamenta. L'uomo ha fatto più di 150 tirami da piedi in poco più di settimane, in cui ha raggiunto il livello 31 di luogo e ha catturato più di 4.000 creature diversi. E a passare i più incarnati, potremmo obiettare che i Pokémon sono 151, come Topocans, in realtà sono 142 e sono disponibili infatti negli Stati Uniti tra i loro 5, 3, solo in altri continenti. Mentre gli stanti siano sono ancora stati immessi dagli sviluppatori di gioco. Vi ringrazio per l'ascolto per l'ascolto di gioco. E la vita di Stati Uniti al primo video è che questo video termina, dunque il miracolo vero proprio. Iscrivetevi, commentate e un caro frattempo.